Benvenuti ai nostri video ascoltatori del canale YouTube d'Italia Medievale. Oggi abbiamo l'enorme piacere di ospitare un amico, perché mi sento di poterlo affermare, ma soprattutto un grande accademico, perché è uscito il suo ultimo lavoro, la sua ultima fatica, e si tratta di Medioevo Marinaro, Prendere il mare nell'Italia Medievale, pubblicato dal Mulino, 304 pagine per 22 euro, e l'autore che è qui con noi oggi a parlarcene è Antonio Musarra, che io saluto e al quale cedo, come sempre, la parola per non rubargli troppo tempo. Grazie Antonio, prego. Grazie Maurizio, grazie a tutti voi per questa bella e immeritata presentazione, grazie a tutti gli amici di Italia Medievale. Sì, per me è un grande piacere presentare oggi questo nuovo libro, Medioevo Marinaro, Prendere il mare nell'Italia Medievale, che esce appunto per i tipi del mulino, di cui vi mostro la copertina, semplicemente per fare un reclamo. Hanno posto su questo libro una rosa dei venti veneziana, e questo, devo sottolinearlo, è un grave insulto nei confronti dell'autore, che ha certamente radici e origini siciliane, ma che è nato e vissuto a Genova. Sto scherzando, naturalmente, era giusto per rompere il ghiaccio. Però è chiaro che già nella copertina si nota quello che è l'argomento precipo di questo volume, così come nel titolo. Un Medioevo diverso dal solito. Ecco, io inizierei giusto da qui. Noi siamo abituati a una descrizione, potrei dire anche una descrizione accademica, di un Medioevo prettamente terrestre, potremmo dire così. Un Medioevo fatto di castelli, nel nostro immaginario, di cavalieri, di comuni, di signori, di rapporti feudali, un Medioevo molto rurale, se vogliamo, e da un lato, dall'altro un Medioevo cittadino. Abbiamo anche l'idea di un Medioevo mediterraneo, e questo non dobbiamo negarlo. Un Medioevo che è stato approfondito da grandi storici, da Roberto Sabatino Lopez a Geo Pistarino, a David Abulafia, eccetera. Ma nel momento in cui si tratta, si è parlato nel passato di Medioevo mediterraneo, spesso si è fatto riferimento a un discorso prettamente economico, si è fatto riferimento alla figura del mercante. E quello che è mancato nell'approfondimento, soprattutto in Italia, nonostante alcuni grandi nomi, è l'elemento intermedio, l'elemento prettamente marinaro. Per questo ho utilizzato questo termine, non la parola marittimo, che come sappiamo denota in particolar modo la marineria civile e, se vogliamo, l'aspetto commerciale della fraccenda. A me interessava, come dire, comprendere tutto quell'universo, perché si è rivelato veramente un universo che sta tra la Terra e il mare dei commerci, ovvero l'universo, il mare dei commerci e dei conflitti, naturalmente, l'universo della navigazione. Di qui, allora, questo testo. In passato abbiamo avuto effettivamente alcuni storici che si sono occupati di questo argomento. Vorrei citare qui per la venezianistica, ad esempio, Frederick Lane o Ugo Tucci, o ancora per la genovesistica Gio Pistarino, Laura Balletto, per quanto riguarda il terreno centrale tra Pisa e Sardegna, la grande opera di Marco Tangheroni, che molto probabilmente chi ci ascolta conoscerà, Commercio e navigazione nel Medioevo. Ma non possiamo dire però che al mare, in particolar modo, sia stato dato un peso adeguato. Abbiamo ancora un Medioevo che risalta per le sue strutture continentali. Tant'è che chiunque di noi possa avere accesso a un manuale di storia medievale si renderà conto di come, per esempio, il discorso relativo ad alcune città di mare particolarmente importanti sia ancora trattato partendo dal paradigma primo-novecentesco della Repubblica Marinara. Io non uso mai questa espressione all'interno del mio volume in maniera programmatica. Chiaramente capisco bene le semplificazioni, quando queste semplificazioni sono oculate, e le approvo anche, non sono un talebano da questo punto di vista. Non lo uso programmaticamente perché questa espressione ha un'origine ben precisa. E questa origine, se vogliamo, nasce ben dopo la grande opera sui comuni di Simone de Simondi, che pure aveva utilizzato il termine Repubblica, nasce dopo il sorgere dell'Italia unitaria e in particolar modo nell'Italia liberale da un lato e fascista dall'altro, primo-novecentesca. E anzi, in origine queste città, queste repubbliche marinare che iniziano a comparire nei libri scolastici, si riducono a tre. Si riducono a Genova, Venezia e Pisa e fu appunto il desiderio di comprendere il meridione che determinò l'invenzione di Amalfi come Repubblica Marinara. E qui ovviamente avrò gli strali di molti amalfitani o molti amanti del meridione amalfitano. Amalfi è certamente importante, anche per la precocità dei suoi commerci, dei suoi traffici e per le fonti che ci ha lasciato, ma, dobbiamo dirlo, non era l'unica. All'interno del panorama portuale meridionale abbiamo molteplici scali altrettanto importanti, a partire semplicemente da Gaeta, ma basti pensare a Napoli, a Salerno. Sul porto di Salerno si è lavorato moltissimo negli ultimi tempi, ma pensiamo anche a Palermo, a Messina, che è il principale porto dotato di acque profonde del meridione d'Italia, punto di passaggio nevralgico tra un bacino e l'altro del Mediterraneo. basti pensare anche ai porti pugliesi, ai porti, lo dico al plurale di Roma, città fluviale ma che ha una stretta connessione col mare. Dunque è un panorama molto più complesso. Allora, io sono partito da queste considerazioni. Ho cominciato a osservare la penisola per intero, cercando di fuoriuscire dall'ottica abulafiana, potete dire, delle due Italie, il famoso libro di Abulafia, The Two Italies, e non solo sua ovviamente, cercando di guardare il medioevo marittimo, navale e marinaro della nostra penisola da un'ottica diversa, da un'ottica prettamente marittima, potremmo dire così. Cioè, guardare dal mare la vicenda medievale della nostra penisola. Ad esempio, scoprendo di come sia più opportuno parlare non tanto di un'Italia meridionale e di un'Italia settentrionale, ma di un'Italia tirrenica e di un'Italia adriattica. E già questo muta moltissimo la nostra prospettiva, perché effettivamente si tratta di zone, di bacini, di zone relazionali, quindi spazi densi di relazioni al proprio interno che hanno certamente similità, ma hanno anche profonde diversità l'uno dall'altro. l'uno dall'altro. E tutto ciò mi ha portato, allora, a, come dire, desiderare io stesso da approfondire quella che è una materia fondamentalmente negletta all'interno del panorama degli studi italici, non così all'estero. Questo devo dirlo. Ecco, molto spesso la storia marittima del Mediterraneo, la storia marittima e navale marinara, con particolare riferimento all'aspetto nautico del Mediterraneo, è fatta da fuori, è fatta da statunitensi o comunque studiosi che appartengono al mondo anglofono, che certamente hanno una grande forza nelle teorizzazioni, ma posso dire, senza voler per forza offendere nessuno, molto spesso hanno difficoltà nello scavare nei nostri archivi, anche per questioni veramente di praticità. Noi li abbiamo sotto casa, nel momento in cui si possa accedere loro, chiaramente, ma questo è sicuramente un vantaggio. E quel che ho fatto è cercare di effettuare una prima ricognizione che poi in parte è confluita nel libro, in parte è posta lì per le mie attività accademiche, una prima ricognizione di quelle che sono le fonti marittime, navali, marinare, nautiche della penisola italiana. E con mia grande sorpresa, il mio punto di vista iniziale era quello genovese, in parte veneziano, con mia grande sorpresa queste fonti sono presenti presenti fondamentalmente in tutta la penisola, da nord a sud, anche nell'interno, certo, con storie variegate e particolari, ma basti pensare semplicemente al fatto che uno dei principali manuali di costruzione navale veneziana, quindi per chi ha le influenze veneziane, si trova nella biblioteca MAI di Bergamo, per dire, chi se lo sarebbe mai aspettato, e anzi a Bergamo sono state recentemente ritrovate anche altre fonti estremamente importanti come Portolani e cose di questo genere. Basti pensare alle abbazie del meridione, Cavad, ad esempio, che detenevano il possesso dal loro interno montuoso, potremmo dire così, di porti, porticcioli, estremamente importanti per il loro stesso sostentamento. Basti pensare agli stretti legami tra le commende templari e i porti pugliesi che permettevano il continuo approvvigionamento di derrate alimentari tra appunto i porti stessi italiani, le commende e il più vasto mediterraneo. Insomma, questa ricognizione mi ha portato appunto a, mi ha aperto un mondo, devo dire, devo essere proprio sincero, ecco, e mi ha aperto un mondo, tant'è che io ho cominciato a elaborare un percorso all'interno di queste fonti che poi ho proposto ai miei stessi allievi nel corso del mio insegnamento universitario in maniera molto sperimentale, un po' come si faceva a un tempo in cui la ricerca sul campo poi finiva nell'ambito delle lezioni, finiva all'interno delle lezioni universitarie che in questa maniera non diventavano semplicemente il ripetere monotono di un manuale di anno in anno. Quindi ho presentato questo materiale nell'ambito dei miei corsi e da lì è sorta l'idea l'idea è sorta la necessità mancando altri strumenti di fissarlo su carta ecco di fissare su carta l'inedito e ovviamente di fornire anche al lettore che non è necessariamente un lettore universitario ma semplicemente un libro leggibile da qualsiasi appassionato del periodo medievale fornire anche un punto di fare il punto per utilizzare un'altra espressione marinara della storiografia passata relativamente poco abbondante come si potrà notare dalla bibliografia finale della storiografia passata sull'argomento cioè io mi sono chiesto cosa voglio fornire al mio lettore dove siamo arrivati e cosa fare per il futuro il libro contiene esattamente questo contiene una sintesi delle conoscenze attuali con in riportato in nota riferimento alle fonti e in bibliografia finale i riferimenti fondamentali alla bibliografia come si suol dire secondaria e una proposta di approfondimento su determinati temi che ruotano attorno all'argomento più generale medioevo marinaro e da qui dunque la suddivisione del volume che vado velocemente a a esporre senza senza entrare nel dettaglio perché non voglio naturalmente togliere il desiderio di guardarvi all'interno al lettore stesso è un volume che si snoda in dodici capitoli e che cerca di guardare complessivamente a tutto il millennio medievale non a caso io ho voluto concludere il volume con quello che ho chiamato il sogno di Ulisse in omaggio anche all'anno dantesco il volume si apre con Dante si apre con la descrizione che Dante fa del Mediterraneo e si chiude con questo sogno di oltrepassare il Mediterraneo da parte dell'Ulisse dantesco la descrizione del Mediterraneo da parte di Dante è qualcosa di straordinario sono versi mortali permettetemi Maurizio di declamarne solamente qualche riga perché introducono molto bene tutto quello che viene dopo siamo nel paradiso il canto nono i versi 82 e 93 Dante incontra un famoso trovatore Folchetto di Marsiglia il quale dice pronuncia queste parole la maggior valle in che l'acqua si spanda incominciaro allor le sue parole fuor di quel mar che la terra inghirlanda tra discordanti liti contro il sole tanto sen va che fa meridiano là dove l'orizzonte pria far suole cos'è il Mediterraneo per Dante è la maggior valle quell'avvallamento maggiore in cui l'acqua si spanda quale acqua l'acqua dell'oceano no l'acqua di quel mar che la terra inghirlanda e a noi vengono subito in mente che cosa le famose mappe orbis terre mappe TO possiamo dire come come sono state definite in cui appunto il Mediterraneo e i fiumi principali che separano Asia Africa e Europa sono rappresentati sotto forma di una T i continenti sono all'interno del globo in alto viene posto l'Oriente l'Asia il maggiore il più misterioso là dove sorge il sole in basso sulla destra e sulla sinistra l'Europa e l'Africa e l'oceano che inghirlanda il globo conosciuto una rappresentazione teologica che noi deriviamo da Isidoro di Siviglia con il riferimento delle Sacre Scritture ai figli di Noè Sam, Cam e Iapheth del globo che raggiungerà proseguirà nel tempo che ritroveremo ancora nel Quattrocento in in perfetta consonanza con la sorgere di carte nautiche e la riscoperta della geografia tolemaica a questi temi è dedicato il primo capitolo rappresentare il mare il mare e la sua rappresentazione quasi come un flash iniziale naturalmente sarebbe stato possibile scrivere un libro solamente su questi argomenti ed è uno uno delle posso dirlo io vado avanti per passioni e questo è un è un problema talvolta senso che mi faccio in fervo in fuoco a volte per breve tempo a volte per molto a volte queste passioni ritornano per determinate tematiche e questa è sempre stata una tematica che a me ha affascinato moltissimo io ho dedicato uno dei miei primissimi articoli proprio alla geografia immaginaria e reale dell'oceano ormai 12 anni fa e sono qualcosa su cui vorrò poi tornare quando uno potrà avere la libertà di studiare quel che gli fa ecco senza valutazioni vqr o cose anvur e cose che ci propinano oggi per valutare la ricerca universitaria quasi uno deve farla come hobby in certa maniera per poter rimanere a galla ma questo è un altro discorso non voglio tediarvi dunque c'è questo primo capitolo che è dedicato alla rappresentazione del mare e poi si comincia si comincia quasi seguendo l'esperienza di un pellegrino che deve recarsi da qualche parte e che osserva quello che accade quindi questo pellegrino innanzitutto osserva che cosa? i porti i porti del settentrione i porti del meridione queste brecce lungo la costa di cui cerco di fornire una tipizzazione basandomi sulla storiografia più recente città-porto città-comporto porti senza città addirittura città senza porto pensate a Barcellona il cui porto è costruito solo nel 400 e poi questo pellegrino ipotetico che cosa fa? osserva i mestieri che si svolgono nel porto e andiamo così nel terzo capitolo i mestieri del mare soprattutto quelli in questo a questo in questo momento del suo viaggio legati alla terraferma tutto ciò che circola tutto quanto circola attorno alla portualità i scaricatori i pescatori e poi naturalmente i cantieri i cantieri gli arsenali i lavoratori coloro che lavorano all'interno di darsene e arsenali le darsene dove si conserva il naviglio gli arsenali dove lo si costruisce anche se poi a seconda della posizione geografica questi due termini si acquisiscono significati e sfumature leggermente diverse ed è stato anche interessante cercare di capire appunto come siano utilizzati e poi guarda il mare e naturalmente osserva questa foresta di alberi di alberi di nave ovviamente e non solo di nave di alberi di galè e cerca di capire questo ipotetico pellegrino di che tipo di naviglio si tratti allora un quarto capitolo devo dire mi scuso ma era necessario un po' tecnico riguardo ai tipi nautici e quindi alla suddivisione tra navi e galè e non solo e alla loro evoluzione nel corso del tempo e poi finalmente ci imbarchiamo finalmente saliamo al bordo siamo diretti ovviamente al porto di Giaffa per risalire poi a Gerusalemme e a bordo osserviamo la vita degli equipaggi osserviamo innanzitutto gli equipaggi e ci rendiamo conto della loro condizione di come la condizione sociale degli equipaggi tra il dodicesimo e il quattordicesimo secolo vada modificandosi e di come sia anche differente la presenza etnica a bordo rispetto a tra Firenze scusate tra Venezia Genova e Barcellona anche Firenze avrà una propria marineria non è in caso se ne parli proprio all'inizio e di questi equipaggi stiamo ormai a metà del volume osserviamo la vita di bordo tra l'alimentazione il modo di dormire il modo di passare il tempo semplicemente e ne osserviamo anche grazie ad alcune fonti molto interessanti che sono gli inventari che ciascuno lasciava portava con sé per eventuali dipartite possiamo dire così e quindi anche legate a testamenti osserviamo anche gli effetti personali che alcuni di questi personaggi recavano a bordo con sé e poi la religiosità degli equipaggi stessi la preghiera le ore della preghiera dopodiché ci rivolgiamo agli ufficiali o comunque a quella parte degli equipaggi che aveva compiti di comando e di governo del legno e cerchiamo di comprendere dal nostro occhio di pellegrino quindi di persona che desiderosa di conoscere come avveniva la navigazione ci vengono raccontate storie del passato partendo da Rutilio Namaziano e la sua navigazione verso le gallie e quindi toccando anche tematiche alto medievali conosciamo i ritmi del mare i venti le correnti le rotte gli scali e poi cerchiamo di capire come i nostromi se possiamo dire i nocchieri i comiti riescano a governare di fatto il legno stesso mediante l'introduzione di alcuni strumenti estremamente importanti che rientrano in quella che Frederick Lane chiamava la rivoluzione nautica del medioevo e dunque l'introduzione della bussola l'uso di portolani l'uso ipotetico e su questo c'è chiaramente anche una questione storiografica di carte nautiche non sappiamo se effettivamente fossero in uso di tavole di martelogio di cui non posso qui non posso soffermarmi e insomma ci chiediamo come era possibile fare il punto nave fare il punto è un'espressione che usa Colombo nel suo diario per cui un'espressione che troviamo all'epoca cioè capire dove ci troviamo in questo immenso specchio di mare a volte senza punti di riferimento quasi mai devo dire perché la navigazione all'epoca aveva avveniva sovente anzi regolarmente di cabotaggio ecco però era necessario talvolta anche affrontare diverse giornate di navigazione in direttura o d'altura o come si leggiamo nelle fonti in pelago e ad esempio tra Creta e Alessandria d'Egitto cioè una settimana di navigazione e allora in quel caso era necessario escogitare metodi matematici per poter fare il punto che fossero effettivamente utilizzati non lo sappiamo in qualche caso sicuramente sì però esistevano e dopodiché il pellegrino si interroga anche su eventuali problematiche sorte a bordo ad esempio il rischio di naufragio mettiamo la possibilità di gettare fuori bordo il carico nel momento in cui ci si trovi di fronte a una tempesta e sia necessario salvaguardare la vita dei marittimi e tutto ciò il pellegrino in quel momento si accorge di tutto di come tutto ciò sia normato da una legislazione qui siamo già al nono capitolo una legislazione marittima che ha origini radici potremmo dire profondamente romane e romano bizantine ma che poi noi troviamo traslata in tutte le città della penisola la quale come si potrà vedere tramite alcune tabelle normava da qualsiasi tra cui anche la presenza di armi e armati a bordo perché il Mediterraneo era un luogo non così tranquillo possiamo dire e di fatti ben due capitoli sono dedicati alla guerra sul mare e al Mediterraneo dei conflitti un aspetto che riguarda fortemente il discorso marinaro in sé non ho voluto inserire anche ulteriormente un capitolo sui commerci ma mi sono concentrato sulle rotte anche perché dei commerci si è parlato tanto dell'aspetto navale quindi del Mediterraneo dell'aspetto prettamente bellico ne sappiamo ancora molto poco in questi due capitoli la guerra sul mare il Mediterraneo e i conflitti ho un po' fatto confluire i miei studi degli ultimi anni dedicati ai principali conflitti svoltesi tra Genova Pisa Venezia tra Genova e la Corona d'Aragona e nel Meridione pensiamo ad esempio alla grande guerra del Vespro che fu anche e soprattutto un conflitto combattuto sul mare con tanto di grandi ammiragli pensiamo ad esempio a una figura come Ruggero di Lauria conflitti di vario tipo guerre battaglie in mare aperto ma anche guerra di corso la quale attenzione non è un fenomeno prettamente d'età moderna come siamo abituati a immaginare guardando alla cinematografia degli ultimi tempi pensate a Pirati dei Caraibi e cose di questo genere la pirateria e la guerra di corsa che non sono fenomeni ancora così distinti e separati è qualcosa che attiene prettamente al mondo medievale qualcosa su cui ho un progetto in corso perché non c'è ancora benché vi siano tanti studi molto settoriali non abbiamo ancora un quadro di insieme ma qualcosa di estremamente interessante perché era ritenuta a tutti gli effetti in attività economica come qualsiasi altra basti pensare ce lo dicono i documenti dei notai genovesi che rogano presso il castrum di Bonifacio in Corsica basti pensare che per organizzare una spedizione di corsa gli homines cursales si recavano dal notaio semplicemente dal notaio stabilendo esattamente la divisione futura della preda siamo alla metà del 200 chiaramente c'è un'evoluzione precedente la spartizione del bottino è qualcosa di cui sia notizia anche per le flotte che partecipano alla prima crociata per dire però questa evoluzione giunge alla costruzione di veri e propri contratti piuttosto standardizzati legati alla guerra di corsa guerra di corsa che noi ritroviamo fondamentalmente in tutta l'età medievale sino a raggiungere il 400 quando si specializza e alla quale noi ci accorgiamo ad essa partecipano membri di ogni ceto sociale il caso genovese da questo punto di vista è un caso importante abbiamo pirati barra corsari molto noti e abbiamo anche un personaggio che conosciamo tutti che in gioventù esercitò la pirateria ovviamente il nostro Cristoforo Cristoforo Colombo di cui sappiamo poco relativamente poco ma sappiamo che anche egli fu impegnato in questa pratica ed è proprio con Colombo che si conclude questa panoramica il nostro pellegrino ormai è arrivato a destinazione probabilmente sarà anche tornato a casa dopo aver essersi bagnato nelle acque del Giordano descrivendo naturalmente un viaggio terribile in cui ha dovuto mangiare un biscotto cioè il pane cotto due volte duro come la pietra morbidendolo all'interno del vino come si faceva all'epoca o semplicemente in un bicchiere d'acqua ma nel frattempo noi siamo arrivati appunto a Colombo con cui si conclude questo volume e si conclude naturalmente diciamo che non poteva essere altrimenti con il suo diario diario che posso svelarlo perché appunto come diceva Maurizio c'è questa amicizia che ci lega e quindi mi fa molto piacere approfittare di questa amicizia diario su cui io sto lavorando per costruirne una narrazione scientifica possiamo dire così che probabilmente vedrà la luce tra non molto non posso dire altro ma questo è uno degli obiettivi diciamo di corto termine di breve termine ecco quindi un volume io penso piuttosto innovativo rispetto al panorama che del medioevo ci siamo formati nel corso degli ultimi decenni ma che spero più che altro e questa è la mia più grande ambizione avendo anche a che fare quotidianamente con centinaia e centinaia di ragazzi nel corso dell'insegnamento universitario spero che anche possa essere di stimolo per poter ampliare semplicemente non sostituire la visione del medioevo che attualmente è in corso ampliare io dico sempre ampliare la ragione ampliare la ragione marittima navale marinara ampliare la ragione mediterranea ecco in questo caso certamente ne gioverà la medievistica tucur potrei dire soprattutto la medievistica italiana grazie a una all'introduzione di temi ulteriori nel nostro dibattito e non potrebbe essere altrimenti visto la penisola in mezzo al mare in cui ci troviamo a vivere grazie dunque a questa introduzione noi potremmo avere effettivamente un'immagine un'immagine assai più amplia non vorrei dire veritativa perché sappiamo che la verità lo ha solo da solo l'altissimo un'immagine più amplia di quello che è attualmente il medioevo che alberga nelle nostre menti e lasciamelo dire Maurizio anche nei nostri cuori Antonio cioè io veramente passerei le giornate ad ascoltarti è troppo buono no ma non è non è piageria è proprio è proprio onestà totale e penso che questo valga anche per chi ha seguito questa video presentazione io ricordo il titolo del libro che Antonio ci ha presentato che è Medioevo Marinaro Prendere il mare nell'Italia medievale è bello il titolo e anche il sottotitolo è di Antonio Musarra pubblicato dai tipi del mulino 304 pagine 22 euro un libro che sicuramente non può mancare nelle librerie di qualunque appassionato di Medioevo anche proprio per aprire questa prospettiva nuova di un Medioevo diverso da quello a cui siamo abituati da sempre è tutto terrestre quindi veramente un libro che mancava e che serviva io ti ringrazio davvero tanto di aver accettato di realizzare questa video presentazione ricordo sempre ai nostri ascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove potrete anche potranno anche trovare tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato in questo lunghissimo anno pandemico che sembra non finire mai e che ci toglie il piacere di poter fare queste presentazioni in presenza come siamo da sempre abituati a fare sperando di poter tornare presto a farle perché ci mancano tanto e non credo che lo strumento telematico possa sostituirle possa mai sostituirle Antonio grazie veramente tanto e alla grazie a voi è stato veramente un piacere concordo con quello che dici speriamo di poterci vedere in presenza il più presto possibile grazie e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato che ci stanno ascoltando e grazie Grazie a tutti.